Buongiorno Buongiorno Sta arrivando il buongiorno 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 Stiamo facendo colazione, siamo un pochino zombie Adesso noi partiamo un'ora, un'ora, due ore prima Ecco Non riesci a levarsi il trucco dalla faccia Buongiorno Adesso facciamo colazione e tra poco partiamo Andiamo verso Conegliano Renner Ponegliano Arriviamo nel tour bus oggi Siamo nel tour bus Abbiamo tre ore di viaggio E allora siamo arrivati nel tour bus C'è il mio idolo, la pop star Ciao, ciao ragazzi Iscrivetevi al suo canale Oddio Vieni qua Ho bisogno di ciò E' l'uomo pipistello E' Batman Si avvolge nel mantello E' proprio Ci riesce per davvero Chissà poi come fa Ma ti affascinante Johnny Johnny E' quasi magia Johnny Riprova di nuovo Johnny E come sempre riuscirà E' un po' Ogni giorno è sempre il beccio Con quei ragazzacci Scalafrancissca 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 Ciao, siamo nel backstage Iris donna arrabbiamissima Guardate quanto è bella Iris oggi Siamo pronti a scendere, andiamo Andiamo, andiamo Sì, siamo pronti a scendere Grazie 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 a tutti. 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 Questi giorni mi vendicherò. Sapete. No, ma che anzi. Bricasper. Ci vediamo con questi capelli terribili. Buonanotte. Buonanotte. Ci vediamo domani al prossimo vlog. Che sarà domani. Cioè, per noi è domani, ma sarà tra qualche giorno per voi. Mi stanno vedendo tipo... Ciao.